e abbiamo con noi il vincitore Vincenzo Carossi primo qui ad Sanatoia ti confermi leader? Sì è stata una gara molto dura bellissimo il tracciato e siamo andati subito via dalla prima salita in tre io Jacopo e Andrea e poi dopo Andrea si è staccato sulla salita eravamo rimasti io e Jacopo ho cercato di tirare un po' dove più mi conveniva ho visto che mi allungavo di una decina ventina di metri poi ho dato tutto all'ultimo giro e sono riuscito ad arrivare prima. Questa partenza in salita stimola anche ieri nelle altre prove abbiamo visto subito un pronti e via lanciato. Eh sì questa salita in partenza fa subito sgranare il gruppo i primi vanno subito via infatti è stato molto duro reggere tutti e due giri. E qual è stata per te la parte più impegnativa ed insidiosa del percorso? Più impegnativa la salita iniziale e la salita prima del secondo box invece la discesa più bella è stata si doppietti in mezzo al bosco e poi due salti in parabolica. Ok chiedo scusa perché arriva il vincitore per quanto riguarda gli esogenti del primo anno Filippo Cingolani. E complimenti al marchigiano Filippo Cingolani lo ascolteremo e complimenti a te vincitore a questo punto vuoi arrivare fino in fondo con questa maglia addosso. Sì spero di riuscire a vincere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.